Si chiama Le vostre storie, la nostra voce. È una raccolta di audio racconti ideata da Officine Festi che testimonia da diversi punti di vista l'esperienza della quarantena durante l'emergenza sanitaria in corso. Il progetto è inaugurato da un video in cui si incontrano 10 storie ispirate da questi giorni di attesa realizzato con l'associazione beneventana Chinetta. Officine Festi ha realizzato una raccolta di podcast con sola voce disponibile da domani su Spreaker con l'intento di creare una radio dedicata al racconto di storie nascoste tra le mura domestiche o ispirate da situazioni anomale. Tra i racconti proposti, le parole di un albicocco fiorente che si domanda con sorpresa cosa stia succedendo, un turno di lavoro di un infermiere del 118, un compleanno finto di una bambina, un panorama insolito che racchiude il ricordo di un amore, la storia di una bambina speciale che non può fare le fisioterapie, la paura di una donna maltrattata, un monologo di un virus e altri testi. Vi confesso che a dispetto dell'autocustodia cautelare alla quale siamo tutti costretti, la mia clausura si sta rivelando più ricca di quanto credessi. Esco di casa pressoché ogni giorno per raggiungere la struttura dove lavoro come volontario e queste mie evasioni obbligate mi stanno offrendo la visione di spaccati di vita che dal profondo della prigionia antivirale e asociale in cui siamo tutti immersi temevo oramai perduti.